Non vedo altra possibilità. Sì. Grazie. Vinzi è calmato dal momento che me lo chiedi. Il tuo psicopedagogista ha detto che bisogna lasciarlo addormentarsi in autonomia. Il nostro psicopedagogista ha detto anche che il padre dovrebbe essere più presente. Anche con l'attenzione, rispondi. Ora no. No, non rispondi, se no poi ci pensi e sei ancora più assente. Ma cosa vuoi? Non siamo obbligati a parlarne adesso, no? E io non sono obbligata ad alzarmi in continuazione. Vabbè, la prossima volta mi alzo io. Tu vivi costantemente come se fossimo allo zoo?